Il 22 marzo, Clemente Augusto von Gallen, siamo a cavallo del XIX secolo, ma in modo particolare la sua opera la troviamo nel XX secolo, fu un vescovo, fu un pastore, guidò il suo greggio con molta saggezza e non esitò a prendere posizione, a definire, a mettere in guardia i propri fedeli da una dottrina che si era insinuata nel mondo tedesco e che aveva un'origine del tutto pagana. Ma vediamo, fu un aristocratico, undicesimo di tredici figli, frequentò il liceo dei gesuiti, poi diventò sacerdote nel 1904. Passò attraverso vari incarichi, ricarico capitolare, cappellano, parroco, con i suoi parrucchiani condivise i difficili anni della Prima Guerra Mondiale, i tumulti del dopoguerra. Voi sapete quanto fu dura la Prima Guerra Mondiale per la Germania, che ne uscì sconfitta assieme al mondo austriaco. Crollarono, vi ricordate, tre imperi, quello turco, quello austriaco e quello tedesco, con la Prima Guerra Mondiale. E le sanzioni che caddero sui tedeschi per volontà della Francia e dell'Inghilterra furono terribili. E non c'è dubbio che furono le ragioni prime, molto lontane, ma furono le ragioni prime che determinarono di nuovo una reazione, e la reazione fu una reazione nazionalista che diede adito al movimento nazista per imporsi quel movimento nazista che si ispirava all'opera di Hitler, una delle opere che va ancora oggi per la maggiore, e che era un'opera razzista, pagana, violenta, guerra fondaria. Nel 33 fu eletto vescovo e scelse come motto né claudibus né timore, né con le loti né col timore. Quindi tiriamo avanti, né seguendo gli adulatori, né paventando le minacce di questo mondo. E cari miei, Clemente e Augusto Fungale, incertainmente sarebbe finito martire se il nazismo fosse potuto sopravvivere ancora per qualche anno. Perché le sue posizioni all'interno della Germania diventano oggetto dell'attenzione della Gestapo. e più di una volta il progetto del partito fu quello di arrestare e deportare il vescovo. Ma il timore che la popolazione potesse sollevarsi frenò sempre le autorità naziste. perché la popolazione era legata al proprio pastore. Amava il proprio pastore e non l'avrebbe permesso. Sin dalla sua prima lettera pastorale durante la Quaresima del 34, quindi all'inizio proprio della vita nazista di questa dottrina infame che si impose oltretutto già mi sono pronunciato a questo proposito altrove su un popolo che si definiva cristiano il novello vescovo non esitò a smascherare l'ideologia neopagana in ossita nel nazionalsocialismo. Quel che è grave è che questa ideologia sta di nuovo serpeggiando in alcuni settori della società tedesca. Attenzione quindi che portando avanti una certa politica ipocrita di accoglienza c'è il pericolo poi di far rinascere certe posizioni razziste e violente. Sempre attenzione a non esagerare su certi percorsi che portano poi a delle reazioni e le reazioni oggi sono queste. Ancora negli anni seguenti continua a prendere posizioni in favore della libertà della Chiesa delle associazioni cattoliche voi sapete che c'era stato un concordato tra il governo tedesco nazista con il Vaticano ma venne disatteso sotto questo punto di vista il Vaticano fu poco guardingo e si accordò con il diavolo e il diavolo appena potè si rivelò per quello che era dell'insegnamento della religione e delle scuole e sferrò apertamente alcune pesanti accuse di rigenerazione. Quali accuse? Discriminazione della razza. Sapete che la razza ariana per il nazismo era una razza superiore. Nel momento stesso in cui noi diamo per scontato una premessa di questo genere tutte le razze altre sono inferiori e quindi tutte le altre razze diventano potenzialmente razze destinate a servire la razza ariana o a essere addirittura eliminate. Attenzione che su ogni ideologia le premesse sono importanti perché dalle premesse poi si arriva a delle conseguenze. Imprigionamento e uccisione dei cristiani non di a loro fede. Abbiamo visto anche qui dei beati, dei santi che per essere troppo cristiani per essere troppo cattolici vengono presi e buttati nei campi di stermini. Il vescovo non tace. Guardate che è importante questa cosa. Il vescovo non tace. Pensate se tutti i vescovi della Germania avessero preso posizione. Il nazismo non avrebbe potuto fare nulla. È grave già che certe ideologie entrino nel cuore dell'uomo ma è ancora più grave quando certe ideologie possono entrare nel cuore di un cristiano nel cuore di un popolo che si definisce cristiano. Ma come ci può essere una discriminazione razzista per un cristiano? Ma la Germania era sostanzialmente cristiana eppure accoglie il nazismo. E pochissimi sono i pastori non parliamo poi il mondo luterano nella stragrande maggioranza si compromette ma il mondo cattolico non tanto di meno con un'autorità violenta. Il vescovo denuncia invece questo trabocchetto quanto mai insidioso. Ecomondiale trovarono poi tre prediche tenute nel 1941 dove non mancò di denunciare le violazioni compiute dallo Stato e di rivendicare il diritto alla vita all'inviolabilità e alla libertà condanno inoltre trasparente la teoria dell'uccisione delle viti improduttive ritenute senza valore. Non vi rendete conto che oggi in linea col nazismo di una volta si sta reintroducendo questa pazzia cioè eliminare quelle viti improduttive ritenute senza valore. negli Stati Uniti d'America si è fatta già operante una di queste leggi se il feto è potenzialmente ammalato io lo posso eliminare anche pochi giorni prima dell'evento perché non è considerato essere umano fino a quando non si è affacciato alla vita uscendo dal ventre materno. soltanto che oggi queste pazzie come l'eutanasia serpeggiano silenziose non con tanto di divisa e di stivali non tanto con il grido di Hitler ma in colletto bianco in nome della libertà libertà radical chic eppure questo vescovo non teme il nazismo sebbene c'è stato lì vicino per lasciarci le penne il regime nazista si sentì profondamente colpito nell'intimo e ipotizzò l'arresto e l'omicidio di von Galen si temette però che la popolazione cattolica della diocesi di Munster si fosse prontamente di Bellate optò allora per non potendo colpire la guida cerca di colpire indirettamente la guida deportando nei campi di concentramento 24 sacerdoti secolari 18 religiosi tra i quali poi una decina morirono martini il vescovo si dimostrò angustiato per questa abominia di sostituzione tante volte la chiesa di allora ebbe a tacere perché si temeva che parlando le autorità secolari potessero prendersela con la povera gente con i cattolici in genere nei difficili mesi del dopoguerra Augusto von Galen continuò ad essere il punto di riferimento di tutti i colori che si trovavano in qualsiasi stato di necessità di precarietà abbiamo un modello di cristiana franchezza la sua posizione di credente al cospetto di Dio costitui il fondamento della sua intrepida testimonianza contro le ingiustizie contro la disumanità degli esseri umani e noi oggi in questo beato troviamo un modello un modello di franchezza cristiana e una franchezza cristiana che non è più contro un tiranno nella forma di un dittatore e del suo partito abbiamo detto prima non più contro una divisa contro degli stivali contro delle mani tese ma contro la dittatura del sì alla moda e all'opinione pubblica tanta parte il nazismo era diventata una moda era diventata un'opinione pubblica che portò alla distruzione che portò alla morte di milioni e milioni di innocenti e quindi anche la sua testimonianza come la testimonianza di altri santi una testimonianza alla quale si può attingere e nell'esempio noi possiamo trovare la forza necessaria e la fede per dire no ad una certa moda che in nome di una certa cultura radical chic in nome di una certa cultura di massa imposta dai mezzi di comunicazione di disinformazione io direi e dalla moda del consumismo ci spesso ci mette nella condizione di dimenticare da dove arriviamo e quali sono gli impegni che ogni cristiano dovrebbe avere di fronte al proprio Dio il vero Dio non gli idoli il vero Dio e quegli impegni che come cristiano si è preso nella sua vita per la quotidianità per la quotidianità che è lì dove si dimostra la sua testimonianza di fede se o non è cristiano se insomma è un cristiano del compromesso o è cristiano nel senso reale della parola nec laudibus nec timore grazie grazie Grazie.